La copertina Ma quello che aveva colpito molto era la copertina E di fatto il numero seguente Pino si scusò perché aveva sbagliato e invertì le posizioni Invertì le posizioni, la giustizia dietro, Andreotti avanti Dunque, un giornale di satira politica che si chiama Il Quaderno del Sale è stato sequestrato per ordine del procuratore della Repubblica di Bari È un giornale di satira politica che conosco benissimo perché io ne sono il direttore editoriale Quindi è stato sequestrato, uno immagina per vilipendio, oltraggio, queste cose La satira politica com'è? No È stato sequestrato per oscenità Ecco, io vorrei chiedere al procuratore della Repubblica di Bari Spero che mi stia a sentire Che cos'è che considera osceno? La satira o la politica? Ha chiesto per i miei Buon appetito! La statura?